ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale questa settimana sono stata impegnata con un progetto di lavoro che ho in mente di cui non voglio accennarvi nulla per scaramanzia finché non sarà più avanti insomma finché non avrà preso più più corpo e quindi meditavo su che cosa fare come video il fatto però che mi siano capitate delle cose che in questa settimana mi hanno comunque riportato alla mente mia nonna mia nonna materna mi ha fatto pensare che probabilmente questo video avrei potuto farlo come omaggio ai miei nonni sia quelli materni che a quelli paterni sono come tutti noi sono persone sicuramente importanti perché tutti noi siamo importanti quindi anche loro sono però ovviamente non sono in realtà nonni famosi e non sono nemmeno nonni di una persona famosa perché io non lo sono ciò nonostante mi sono detta che avrei comunque voluto dedicar loro un piccolo spazio nel mio canale perché sicuramente non potrei scrivere un libro su di loro veramente si potrebbe anche fare però io sicuramente non scriverò un libro su di loro ma un video che li ricordi nel tempo perché non avrei anche potuto farlo infatti eccomi qua perché mi è venuto in mente mia nonna in questo periodo beh per una serie di motivi velocemente il primo sul quale voglio sorvolare perché non non voglio dare energia a cose sbagliate a cose negative e il fatto che in settimana una persona mi ha aggredita verbalmente tra l'altro senza mascherina cosa che sarebbe anche contro la legge con quel di là di questo mentre mi aggrediva io una parte di me pensava a quello che diceva sempre mia nonna e e cioè che l'aggressività fisica non ne parliamo ma anche quella verbale in realtà è segno di debolezza di essere persone limitate insomma e quindi mentre ascoltavo lei mi veniva in mente mia nonna e questo mi rincuorava mi sentivo come se lei mi fosse vicina mi 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 sostenesse insomma perché mia nonna era fautrice della gentilezza mi ricordo che io quando ero bambina dicevo sì vabbè ma non si può sempre essere gentili non si può sempre porgere l'altra guancia e allora lei diceva che lei era profondamente convinta che invece si dovesse sempre essere gentili e si dovesse rispondere con la gentilezza all'aggressività e diceva anche che la gente essere gentili essere educati non è sinonimo di debolezza anzi e poi mi ricordo che una volta avevo talmente esasperata perché io quando ero piccola non ero così convinta di questo questa bontà d'animo che poi bontà d'animo non è semplicemente appunto l'ho imparato poi crescendo e semplicemente saper essere in realtà forti saper controllare le proprie pulsioni più più bestiali però mi ricordo che appunto le avrò totalmente tanto le scatole quel pomeriggio che mi disse sentimi bene se non la vuoi prendere come una lezione di civiltà allora prendila come una lezione di opportunismo si prendono più mosche con il miele che non con l'aceto erano queste cose e che lei me l'ha fatta ricordare questa questo episodio sgradevole che mi è capitato la scorsa settimana e poi anche un commento che è stato fatto all'ultimo video domenicale che ho messo che ho messo qui che vi metterò qui che comunque quello l'ultimo che ho pubblicato la scorsa settimana dove mi si diceva che insomma io parlavo delle mascherine colorate no e qualcuno mi ha fatto un presente che avevo adesso non mi ricordo la frase giusta dovrei andarla a rileggere comunque insomma avevo l'entusiasmo un entusiasmo fanciullesco insomma in questa cosa delle mascherine colorate e non era non mi era stato detto come un insulto è però io in realtà riflettendoci non è io non sono per niente entusiasta né delle mascherine e neanche del fatto che siano colorate o semplicemente imparato dalla vita a fare di necessità virtù e questa cosa anche mi è stata insegnata anche questa cosa mi è stata insegnata da mia nonna perché in questo caso mi sono detto le mascherine comunque le dobbiamo portare allora tanto vale dare un tocco di piacevolezza metterlo dare un tocco di leggerezza e provare a metterle colorate magari anche abbinarle agli abiti ai cappotti a quello con cui usciamo insomma così ma giusto per ma perché perché mia nonna mi diceva sempre devi sempre cercare di trovare il lato bello nell'esistenza e siccome non è sempre semplice appunto trovare il lato bello dell'esistenza io mi ricordo che anche lì un pomeriggio perché io ho diversi ricordi di mia nonna però i ricordi più più numerosi sono quelli delle nostre merende insieme perché io qualche volta non tantissime volte e comunque non tante quante avrei voluto però andavo a trovare mia nonna nel pomeriggio dove lei mi preparava le merende e poi davanti alle merende tipo il classico pane burro e zucchero piuttosto che pane marmellata lei non era molto per le merendine era più per le cose casalinghe mia nonna era del 1921 quest'anno avrebbe compiuto 100 anni è arrivata una veneranda età perché comunque è è morta passati i 90 anni lei voleva arrivare a 90 anni e io so che lei è morta quando avendoli abbondantemente passati gli ultimi anni della sua vita non l'ho più potuta frequentare non ho voglia di parlare del perché o del per come però io so che è morta passati i 90 anni e quindi ha raggiunto quello che si prefiggeva di raggiungere e però era appunto una donna di era cresciuta con altre con altre con un'educazione diversa da quella che abbiamo noi oggi e quindi anche le merendine lei praticamente non le piuttosto faceva le torte insomma erano cose molto anche genuine o comunque più casalinghe e quindi di fronte a questo forse probabilmente pane burro e zucchero perché era quello che io preferivo si facevano ogni tanto si parlavano e quindi lei mi diceva questa cosa del una volta mi disse che bisognava trovare cercare sempre di trovare il lato bello della vita perché diceva nella vita avrai sicuramente più dolori che gioie e però devi imparare a trovare il lato bello e io dicevo ma non sempre è facile trovare il lato bello e lei mi diceva c'è sempre un lato positivo e mi ricordo che io le dissi sì e nella morte che cosa c'è di positivo e fa anche in quello c'è qualcosa di positivo perché sia che tu creda sia che tu non creda se credi indipendentemente dalla religione in cui credi c'è sempre un qualche cosa vuoi che ci sia un paradiso se sei cristiana vuoi che ci sia una rinascita se sei buddista e probabilmente mi diceva anche una parte degli ebrei credono nella reincarnazione se invece non credi in nulla allora finisce tutto e se una cosa finisce finisce anche il dolore quindi vedi che anche nella morte ci può essere un qualcosa comunque di positivo certo non è una grande gioia però anche questo mi ha chiesto che cosa poteva esserci di buono nella morte anche nella morte ci può essere qualcosa di buono e io proprio ricordando questa cosa quando ho visto queste mascherine ho detto ecco mia nonna per esempio probabilmente avrebbe trovato il lato positivo nelle mascherine colorate cioè avrebbe cercato comunque di fare di necessità virtù e di farsi piacere anche quello che piacevole non è tipo il dover portare delle mascherine e niente mi manca tantissimo ma questa è una cosa che ovviamente è una banalità però in questo periodo ho pensato spesso a lei soprattutto la scorsa settimana né in queste settimane in questa settimana perché rileggendo il commento che mi era stato fatto e poi per questo spiacevole episodio che mi era capitato poi c'era mio nonno era un carattere molto particolare io gli ho voluto bene ma l'ho apprezzato e l'ho capito crescendo e l'ho capito soprattutto negli ultimi tempi lui portava dentro di sé una grande ferita narcisistica secondo me perché aveva subito un abbandono in quanto sua mamma era morta di spagnola quando lui era molto piccolo per cui è stato cresciuto da una matrigna che lo ha allevato come se fosse suo figlio e lui le voleva bene come se fosse sua mamma però dentro di sé mi ricordo che mia nonna diceva sempre ha subito la sofferenza del non aver avuto una sua mamma la sua vera mamma ha subito anche la sofferenza di aver perso un fratello mio zionino che era un uomo bellissimo e che io ho la sua foto qui sulla mia scrivania sempre la porto sempre eccolo qua questo è la mia zionino non so se riuscite a vederlo per via della luce ci riuscite vabbè non è molto a fuoco ecco era il tipico uomo degli anni 30 e era bellissimo aveva gli occhi verdi mio nonno ce li aveva azzurri grigio azzurri mentre mio mio zionino li aveva verdi a detta dei di chi lo ha conosciuto io ovviamente non l'ho conosciuto era un uomo mio nonno stesso diceva che era diceva era più bello lui di me ma non lo diceva con ripicca lo diceva con ammirazione purtroppo non esisteva ancora la penicilina quando lui si ammalò e morì e era fidanzato la sua fidanzata si è chiusa in convento sono storie di altri tempi ne ho già anche accennato in un video che se mi riesco a se riesco a recuperare ve lo metto qui se no insomma questo è quanto e però aveva perso anche lui insomma aveva subito la morte con un abbandono e quindi aveva questa ferita narcisistica e quindi aveva un carattere molto particolare non semplice era anche un po despota nei confronti non tanto non tanto delle figlie quanto della moglie mi ricordo mia nonna mi diceva quando l'ho sposato siamo usciti dalla chiesa l'ho preso sotto braccio e ho pensato adesso è mio perché mia nonna era veramente molto innamorata di mio nonno anche mio nonno sicuramente ma siccome in una coppia c'è sempre chi è un po più innamorato anche se di poco magari ecco direi che dei due probabilmente la mia nonna essere quella molto più innamorata però sono rimasti insieme per più di 50 anni fra alti e bassi appunto e io un marito come mio nonno non lo avrei mai voluto perché mio nonno era comunque dove vai cosa fai la moglie doveva rimanere in casa aveva una mentalità appunto ad altri tempi e tra l'altro era era fascista non era fascista e non lo dico perché aveva vero un fascista all'acqua di rose perché non fa comodo di no era un fascista all'acqua di rose perché lo era veramente un fascista all'acqua di rose tant'è vero che lui diceva sempre che mussolini per lui ha fatto tantissimi errori le leggi razziali erano una di queste e mio nonno non era un antisemita infatti loro avevano un vicino di casa che era ebreo era il professor schiavo che era stato tra l'altro nella commissione d'esame di mussolini quando mussolini prese il il diploma e mi ricordo che mia mamma che andava a studiare da lui al pomeriggio mi raccontava che questo professore diceva che mussolini a livello scolastico era un asino ora questo professore era di religione ebraica però non i miei nonni non è tutto il palazzo dove lui viveva a cuneo non l'hanno mai denunciato tant'è vero che ha passato è passato indenne per fortuna sua dalle dalle deportazioni quindi dicevo mio nonno però fino all'8 settembre del 43 era stato diceva io all'inizio non mio nonno era fascista convinto poi appunto andando avanti appena scoppiata la guerra ha smesso di esserlo convintamente però lui era nel nell'esercito e quindi quello già io quello era il mio lavoro come guardia forestale dice quella era mia pagnotta e come tanti sosteneva che praticamente la era la tessera del del pane e la tessera del fascismo poi non aderì alla repubblica di fa di salò ma non aderì neanche ai partigiani non però uscì indenne anche dalle epurazioni che ci furono dopo quando la guerra venne vinta dagli alleati perché praticamente mio nonno non era mai stato un fascista di quelli cattivi diciamo così e da lui o però dicevo io come come marito non l'avrei mai voluto perché comunque sia era appunto la donna deve stare a casa dove vai cosa fai eccetera eccetera però da lui io ho ereditato l'amore per per la natura il mio disprezzo per i cacciatori e anche lui disprezzava i cacciatori e mi ricordo che una volta a scuola facevo le elementari lui era venuto a trovarci io dissi a questa mattina è venuto il nostro bidello che è cacciatore e ci ha detto che in realtà i cacciatori sono utili all'ecosistema sono utili perché comunque ammazzano gli animali che sono in sovra più lui fece un sorriso cinico ironico e disse ti ha detto una serie di balle e io ho detto ma cosa stai dicendo fa i cacciatori non sono per niente utili e tutto quello che ti ha detto molto molto spesso i cacciatori sono dannosi e comunque di sicuro non sono utili e conosco tantissimi contadini e tantissime persone che vivono con il terrore quando c'è la caccia perché molto spesso gli pestano i campi non hanno rispetto dice non hanno rispetto per la natura per gli animali assolutamente sono lui era veramente contro la caccia io questo disprezzo nei confronti del cacciatore dei cacciatori l'ho sicuramente ereditato da lui così come invece ho ereditato da lui l'amore per la natura l'amore per per i cani e niente voluto molto bene anche lui mi è stato molto vicino soprattutto dopo che è morto mio papà però anche lui non c'è più è però pensato anche lui questa settimana e poi per non far torto a nessuno ho pensato anche i miei nonni paterni che però io non ho conosciuto ma li ho conosciuti perché sono morti prima che io nascessi in quanto mio papà era del 1928 quando io sono nata aveva 39 anni quindi comunque era già non anziano però era già molto grande ma era un uomo già maturo e i miei nonni erano morti pochi anni prima sono nati sono morti verso la fine degli anni 50 primi anni 60 e quindi io essendo della fine degli anni 60 sono del 67 loro non c'erano già più mio papà non ne parlava moltissimo dei suoi genitori non perché non li amasse li amati molto però anche lui veniva da una generazione poco aperta forse la guerra ha inciso tantissimo anche su certi su certi meccanismi familiari su certi ricordi non lo so so che comunque qualcosa lo diceva i miei nonni erano gli dogliani quindi piemontesi tutti e due sia mio nonno che mia nonna e praticamente sono emigrati entrambi sono andati in argentina perché non erano ricchi erano contadini facevano quasi la fame per cui sono emigrati sono andati in argentina hanno avuto successo hanno lavorato tantissimo sono venuti in francia e in francia erano riusciti a comprarsi una fattoria e quindi avevano la terra la coltivavano davano ai mezzatri a coltivare poi avevano anche un albergo a nerac poi durante quando è scoppiata la guerra durante sotto il fascismo sono ritornati in in italia si sono trasferiti a sanremo anche mio nonno placido era un fascista non so quanto convinto però uno dei suoi figli era era stato arruolato nell'esercito dopo l'8 settembre del 43 questo mio zio che era nella era un pilota dell'aeronautica decise di non aderì alla repubblica di salò però decise anche si vendette vendette al mercato nero i pezzi del suo aereo praticamente ovviamente venne arrestato e finì a dachau finì a dachau e non mi ricordo se a dachau a buchenwald e purtroppo non ho nessuno a cui chiederlo non mi ricordo se l'uno o l'altro campo di concentramento e riusciteva avere perché cercavano degli sminatori e ovviamente essere sminatori erano praticamente c'era il pericolo di morire no e lui però disse tanto qui muoio comunque non è una vita quella di essere richiuso e quindi si offrì volontario come sminatore e riuscì a scappare scappò e si rifugiò in svizzera e quando tornò si trasferì a torino e insieme a mio papà e all'altro suo fratello un altro mio zio crearono una società e divennero costruttori tra l'altro lui che era un affarista nato proprio fece tantissimi soldi e divenne anche non mi ricordo se presidente o vicepresidente del torino calcio e erano tre soci tre fratelli hanno altre soci l'altro fratello anche era torinista mentre mio padre invece juventino sfegatato i miei nonni però erano di origini contadine e tali rimasero come come modo di pensare nel senso che per loro loro davano veramente valore a non sprecavano niente insomma non è che erano tirchi è però erano parsimoniosi cioè erano veramente se io penso al modo in cui hanno allevato mio papà e gli altri fratelli gli altri figli penso proprio che era un mondo completamente diverso dal dal nostro e quindi sono andata a sfogliare l'album di ricordi che ho messo io raccolto tutte le fotografie in un album di famiglia che adesso vi faccio vi farò vedere e ho deciso di fare questo video proprio perché se no non so che chi potrebbe continuare a ricordarli quando io non ci sarò più e quando non ci sarà più nemmeno mia sorella probabilmente i miei nonni verranno comunque ricordati da da mia cugina che ha avuto una figlia e che quindi probabilmente perfettura certi ricordi di famiglia e i miei nonni paterni verranno ricordati dagli altri miei cugini forse però io ho deciso di dare il mio personale contributo a ricordarli appunto mettendoli nel lettere e adesso vi faccio vedere l'album lo sfogliamo velocemente insieme ecco questo è l'album che forse qualcuno di voi ha già visto perché se non ricordo male feci un video in cui accennai a questo album nel periodo in cui stavo preparando gli scatoloni per il trasloco della vendita di roma ad ogni modo allora così tanto per farvi vedere anche allora questi sono i miei nonni paterni questa mia nonna mia nonna virginia questa mia nonna virginia con mio nonno placido e qua sono foto fatte in uno studio fotografico tra l'altro vedo ora mentre ve la sto mostrando pensate qua 8 albert monaco cioè questa acqua praticamente è stata fatta questa foto mia nonna virginia l'ha fatta in uno studio fotografico di monaco probabilmente nel periodo in cui una volta che è andata a trovare sua cognata che viveva viveva a monaco e adesso quando tornerò nel nel principato di monaco voglio andare a vedere questa albert voglio andare a vedere che cosa c'è all'otto di albert sicuramente non ci sarà più un gabinetto fotografico però così per curiosità voglio andare a vedere questo questo cosa c'è in quel posto prima c'era lo studio fotografico di manny joseph questo anche un'altra foto da di quelle che facevano appunto negli studi fotografici infatti è impostata no e questo mio nonno placido questa è mia nonna virginia appunto si chiamava virginia ed era un nome mia nonna non era nobile e ripeto come vi ho accennato prima i miei nonni erano contadini di origini contadine e il nome virginia invece era un nome che si usava soprattutto nell'aristocrazia è un nome bellissimo che porta adesso mia sorella e che lei non lo ama moltissimo come nome invece trovo che il suo nome se che in virginia sia un nome molto bello sicuramente molto meno banale del mio io sono stata chiamata monica perché monique è stata la prima cotta di mio papà ai tempi dell'asilo mio papà in francia aveva preso questa cotta diceva lui per questa ragazzina che faceva l'asilo con lui ovviamente mia mamma non poteva essere gelosa di una cotta neanche adolescenziale di una cotta proprio fanciullesca e quindi ha consentì che io venissi chiamata in questo caso monica non monique perché essendo io italiana mi hanno dato il nome in italiano e qua ci sono ancora altre foto sempre da gabinetto fotografico questo in realtà il fratello di mia nonna però questa qua invece ecco questo qua il gabinetto fotografico di doliani e questa molto probabilmente è mia nonna ma dopo che ha messo al mondo un certo numero di figli perché come avete visto nella foto precedente era molto molto meno magra rispetto a questa foto qua poi va bene altre foto inutile che ve le faccia vedere perché io non è che vi voglio far vedere le foto dell'album di famiglia semplicemente vi faccio vedere l'ultima foto che ritrae i miei nonni qui sono a sanremo con tutta la famiglia al completo probabilmente anche con i generi ci sono i figli ma ci sono anche i generi e altre persone che assolutamente non so chi siano di sicuro questo qua è mio papà e questa mia nonna e questo mio nonno sono già più anziani rispetto alla foto precedente però come potete vedere da quando da come sono vestiti questa ad esempio un cappotto sicuramente una pelliccia di astracan quella che porta mia nonna erano ormai diventati molto benestanti i miei nonni perché appunto in argentina e poi in francia insomma avevano saputo avevano lavorato molto avevano investito molto bene insomma avevano fatto fortuna questi invece sono i miei nonni materni allora questa è mia nonna liliana appena non dico appena nata ma comunque quando era ancora molto piccola così come anche qua è mia nonna liliana non so se riuscite eccola qua a trieste nel giugno del 1922 quando aveva sei mesi mia nonna come vi ho detto prima era del 1921 qui invece in questa foto mia nonna alla prima comunione e allora se guardate qua c'è una specie di taglio la foto è stata piegata perché io mi ricordo che mia nonna detestava questa foto perché diceva guarda che gambe brutte storte che ho io dicevo non sono le tue molto gentile ero io e lei aveva messo questa foto la teneva in un porta fotografie ma appunto piegata perché non voleva che si vedessero queste gambe perché diceva si vede che brutte gambe che avevo e io ho detto vabbè allora se questa foto non la ami dalla me perché così me la tengo come ricordo e lei mi disse no non te la do adesso perché voglio fare una raccolta di tante altre foto che ti potrai tenere come ricordo infatti poi mi la volta dopo che andai a trovarla mi fece trovare una scatola dove appunto c'erano tutte le altre foto tipo questa tipo quella che vi ho fatto vedere prima cioè questa qua poi questa qua questa è mia nonna mia nonna liliana a 18 anni questa invece la mia bisnonna cioè la mamma di mia nonna e questa è la mia tris nonna cioè la nonna di mia nonna la mia bisnonna era di pola era del 1901 io non l'ho conosciuta e praticamente era di origini austro-ungariche parlava anche tedesco e niente però non faceva sapere a nessuno durante l'occupazione che lei parlava tedesco perché non voleva andare adesso non voleva essere chiamata per fare la traduttrice nei durante gli interrogatori lei poi invece era antifascista convinta poi dunque questo invece mio nonno mio nonno elso leopoldo vedete com'era un signorino era sempre molto lui era tutto precisino tutto sempre ordinato io non ho mai visto mio nonno disordinato nemmeno quando era in pigiama qui è a cuneo in piazza galimberti qua invece è con il suo cane sempre negli intorni di cuneo qui siamo alla fine degli anni trenta questo è un cane da caccia che lui aveva recuperato da un cacciatore che lo voleva se ne voleva liberare perché non era un cane che sapeva cacciare il mio nonno invece lo prese e mio nonno appunto come ho già detto non non amava la caccia e né non amava nemmeno i cacciatori esattamente come me qua è mio nonno durante la guerra nelle esercitazioni militari e qua è mio nonno invece nel 1960 con la divisa da guardia forestale ecco e niente questi sono i miei ricordi di famiglia e li lascerò nel lettere ecco vi ho fatto vedere l'album vi ho fatto vedere le fotografie dei miei nonni e con questo vi saluto vi ringrazio perché alcuni di voi si sono iscritti quindi grazie a chi si è iscritto se questo video vi è piaciuto per favore mettetemi un like come vi dico sempre ne ho bisogno dei vostri like mi sostengono mi fanno sempre molto piacere così come se ancora non vi siete iscritti se il mio canale in qualche modo vi fa compagnia se i miei video in qualche modo vi tengono appunto compagnia se il mio canale in qualche modo vi piace per favore iscrivetevi ciao e alla prossima